E due, dice che senza di oi mangiate la pasta Buonasera, mi chiamo Luca Domenici, ho 39 anni e sono di Roma Sui social mi chiamo Il Bombolino Il? Bombolino Il Bombolino E il mio motto è Ciao, comprati a Rappau Miau Allora, allora, allora signori Voglio dire solamente una cosa Bombolino Un momento Complimenti L'effetto cabriolet Se io non sponsorizzassi questo Voi non la potete né comprare e né venderla E un po' mi diccia Prego Puoi riporre sul cranio, per favore? Sì C'è un verso E qual è il verso? Grazie Ciao, comprati a Rappau Miau Ciao, comprati a Rappau 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 Ciao, comprati a Rappau